Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carni, Berruti riesce a conservare in vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, secondo Carni, terzo Jones, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto, Berruti è la prima medaglia d'oro italiana. Nell'atletica leggera, nella gara dei 200 metri.